Mary Jane ASMR ciao ragazzi bentrovati eccoci in un nuovo video totalmente interessante allora vi porto due trigger oggi che trovo su primi e vi faccio vedere il primo questa spugnetta è asciutta e il suono e il suono perfetto qui qui e è A presto. grazie a tutti il microfono è il modello de B-Naurul perciò indossateli gli auricolari mi raccomando perciò indossateli 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 e perciò indossateli Sì, sì, sì. ton 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ve l'ho già fatto vedere un'altra volta. Forse un paio di volte l'ho creato con un semplicissimo brantolo della crema bandistelle. L'ho messo dell'acqua e dei brillantini azzurri. Giusto per dargli un po' di vivacità. E ne ho chiamato il barattolo della crema. E anche il tapping che come sapete si può fare è molto particolare sul fondo del barattolo perché ve lo feci anche ascoltare in un altro video se vi ricordate. Grazie a tutti. Oggi trigger. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.